I bambini di ieri, i cinquantenni di oggi, sono arrivati a Mottola da ogni parte d'Italia per ritrovarsi e vivere insieme l'insolita rimpatriata, con lo slogan classe 1960, la città ha ospitato una manifestazione che di sicuro farà storia. È un'iniziativa per la verità proprio organizzata dal comandante Rotolo che è del 1960, quindi ha avuto questa idea, quest'anno quelli nati in quell'anno compiono 50 anni, quindi si sono radunati tutti i mottolesi nati nel 60 qui a Mottola, anche quelli che per ragioni di lavoro ormai da tanti anni lavorano al nord. Una bella rimpatriata, tanti ragazzi che non si vedevano da tantissimi anni, molti come me con i capelli bianchi e quindi oggi stanno rivivendo un po' gli anni andati.